Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono nel verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre che si manifestò a noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Gioite giusti nel Signore Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra, annunciano ai cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore Una luce è spuntata per il giusto Una gioia per i reti di cuore Gioite giusti nel Signore Della sua santità celebrate il ricordo Gioite giusti nel Signore Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.